Ciao a tutti amici di Eximardure.com e ben ritrovato ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo scelto in redazione un'ulteriore tastiera da gaming di tipo meccanico con retromiazione RGB. Stiamo parlando della Drevo Calibur 71. Partendo velocemente dalla confezione troviamo una confezione di piccole dimensioni di cartone di colore nera. Nella parte frontale troviamo il logo dell'azienda e il modello della tastiera. Mentre nel retro troviamo alcune informazioni circa l'azienda. E nella parte superiore troviamo il colore e la tipologia di switch scelti. All'interno della confezione troveremo un piccolo cartoncino con le istruzioni per il pairing Bluetooth e per le duplici funzioni dei tasti. Il pairing Bluetooth in quanto la Drevo Calibur 71 è una tastiera dotata anche di un piccolo modulo Bluetooth e quindi ci permetterà di collegare la tastiera al computer o tramite connessione Bluetooth o tramite il classico cavo USB. Troviamo anche due piccoli stickers da applicare magari sul keys. Nel retro di questo cartoncino troviamo le specifiche tecniche della tastiera. Troviamo anche un estrattore per i tasti, quindi per magari agevolarci la pulizia più approfondita della tastiera. Ed infine un classico cavo USB e l'altro connettore è un mini USB. Infine troviamo la tastiera, la Drevo Calibur 71. 71 per chi magari è più esperto del mondo delle tastiere meccaniche e non, indica semplicemente il formato. Quindi quanti tasti sono disponibili sulla tastiera o di quanti tasti è caratterizzata la tastiera. Come possiamo vedere il formato è davvero ridotto, non troviamo, scusate, il tastiereo numerico, i tasti funzione dedicati o i tasti multimediali anch'essi dedicati, ma troviamo una tastiera dalle dimensioni davvero compatte e dal design molto elegante e classico, nonché sobrio. La colorazione è interamente nera, il layout di digitazione è americano e ovviamente è dotata di retrominazione RGB con diversi effetti di retrominazione che potranno essere attivati tramite una duplice combinazione di tasti FN più le freccette direzionali o altri tasti nello specifico che vedremo nell'accensione scritta dove magari vi riporteremo alla lista completa per abilitare tutte le funzionalità. Come dicevamo non troviamo i tasti funzione dedicati, ma questi sono integrati nei tasti numerici nella parte alta della tastiera. Tra virgolette alta. Passando nel retro della stessa troviamo una superficie a buccia d'arancia, sempre classico ovviamente, due classici piedini in modo da rialzare un minimo la tastiera, agevolare la scrittura o eventualmente il gioco con dei rivestimenti in gomma. Rivestimenti in gomma che sono presenti anche sempre nella parte alta e nella parte bassa nel caso in cui non utilizzassimo i piedini, ma utilizzassimo l'altezza standard della tastiera. Al centro troviamo un classico adesivo con altre informazioni e nella parte alta di questo adesivo troviamo uno switch a due vie per abilitare o disattivare il modulo Bluetooth. Nella parte superiore troviamo l'ingresso per il connettore menu USB e come possiamo vedere per la Drevo calibro 71 è adottata degli switch la struttura leggermente rialzata in modo che l'illuminazione dei singoli tasti venga leggermente irradiata meglio e quindi magari abbiamo un effetto di riluminazione maggiore. La tastiera è in plastica e sinceramente dovrebbe esserci anche un leggero frame di alluminio all'interno per rendere la struttura complessivamente più rigida e più solida. Come dicevamo la tastiera è dotata anche di un modulo Bluetooth e come possiamo vedere sotto i tasti i caps Q, W ed E troviamo dei simboli del Bluetooth in modo che ci venga avvertito quando il pairing è stato effettuato in modo corretto e quindi potremmo utilizzare anche la tastiera in modo del tutto senza fili. Come dicevamo la tastiera ricevuta è dotata di switch blu in questo caso non troviamo né switch Cherry Mix né Kyle o Negateron come quelli che abbiamo trovato in altre tastiere da noi già recensite ma troviamo un'ulteriore tipologia di switch meccanici che sono chiamati Outemo vi mostriamo adesso la struttura dello switch che bene o male è sempre la stessa quindi diciamo il pioletto è il classico e quindi i caps sono intercambiabili con altri CRMX e quindi potremo personalizzare anche i vari caps e ulteriormente l'aspetto estetico della tastiera. Nella parte alta troviamo un LED e la struttura dello switch è di tipo trasparente. Con questo è tutto vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremadure.com Un saluto a tutti i nostri staff Grazie per la visione! bravo si Grazie.